È stata una campagna di comunicazione che a mio giudizio ha dato buoni frutti perché è stata penetrante e soprattutto ha coinvolto tutta una serie di soggetti protagonisti quindi non si è limitata a cartellonistica, a spot, ma è penetrata nelle scuole ha coinvolto la rete civica e la salute, cioè tutti quelli che sono i soggetti che sostanzialmente poi alla fine sono destinatari dei messaggi e quindi sono stati direttamente coinvolti in queste iniziative ma è chiaro che questo è un primo passo importante perché già dal 9, 10 e 11 avremo un convegno regionale in cui presenteremo il piano regionale di prevenzione che sarà poi lo strumento che noi attueremo dal 2016 in poi per potenziare tutte le linee sulla prevenzione da cominciare proprio dalla prevenzione primaria, gli incidenti stradali, gli incidenti domestici domani presenteremo anche il nostro nuovo programma sugli incidenti stradali purtroppo argomento di grandissima attualità cioè la scommessa vincente alla sanità e la prevenzione quindi su questo ci dobbiamo veramente spremere e impegnare Questa è soltanto una tappa di un percorso che abbiamo voluto iniziare già da più di un anno ormai e semplicemente appunto abbiamo cercato di coinvolgere tutta una serie di persone abbiamo cercato di coinvolgere le scuole abbiamo avuto un'ottima risposta dalle scuole e questo ci fa ben sperare anche per il futuro chiaramente con altri progetti che metteremo in cantiere penso nel prossimo anno